Siamo a San Benedetto Po, presso l'azienda Maxbell, che ospita le calze About Socks con la più grande esposizione della nostra provincia, per presentare About Legend, un fantasmino creato apposta per dare un aiuto alla ripartenza dei nostri negozi dopo le chiusure Covid. È un fantasmino creato tutto in Italia, cucito a mano, con filati realizzati in Italia e in maniera ecosostenibile. Tutti i nostri prodotti hanno queste caratteristiche, quindi dell'ecosostenibilità, della solidarietà, perché una parte del ricavato va sempre in beneficenza, e dell'assoluta qualità e artigianalità. About Legend è creato in tre versioni, una tutta bianca con ricamini neri, un'altra bianca con punta e tallone blu, e una terza tutta nera con il giallo fluo come ricamo. In quest'angolo dell'esposizione sono raccolti alcuni dei lavori del premio calze che ogni anno About Socks, in collaborazione con altri importanti enti, organizza per dare la possibilità ai giovani designer italiani di realizzare le loro creazioni. L'anno scorso, ad esempio, sono stati selezionati questi disegni, Capsule to Mars, realizzato da Aurora Paganelli, una giovane studentessa del Politecnico di Milano, per dare l'idea delle esplorazioni spaziali che stanno riprendendo vigore in questi anni. Il secondo classificato, Alessandra Catò, sempre giovane studentessa del Politecnico di Milano, con Move Lockdown, un invito ad uscire dalle finestre e a riprendersi la propria vita dopo il lockdown. Poi c'è il primo classificato, sempre studente del Politecnico di Milano, Elia Crippa, con Blue Crane, un progetto basato sugli origami, il premio speciale marketing dell'Associazione Culturale Marketing e delle PMI, Marsian Francesco, studente di Naba, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, che ha realizzato questo ricciolo particolare che vuol dare il senso della ripartenza e anche qui di un futuro migliore. L'anno precedente sono state realizzate le calze del giovane designer dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, Antonino Tuccio, che ha voluto dare un'ulteriore dimensione alla calza, la dimensione tattile, attraverso la scritta in braille. Sono state realizzate in due colorazioni. Anche quest'anno About Socks, con i suoi partner, ha dato vita alla terza edizione del concorso, che si conclude tra pochi giorni, parteciperanno tantissime scuole di design italiane e ci auguriamo che nascano nuovi prodotti sempre più belli e sempre con l'idea di fondo della solidarietà e dello spazio ai giovani, unito dalla massima qualità italiana del prodotto. I nostri prodotti si possono trovare qui al centro Maxwell di San Benedetto Po, sul sito web aboutsocks.it e in altri negozi distribuiti in tutta Italia, dove abbiamo selezionato le migliori location per questi prodotti.